Alla centrale operativa della compagnia di Giuliano in campagna arrivano diverse segnalazioni ma il messaggio è sostanzialmente lo stesso. Una persona sta passeggiando sull'asse mediano e spaisato. I militari della sezione radiomobile della compagnia di Giuliano raggiungono in pochi minuti l'asse mediano. Ogni minuto può essere prezioso e la gazzella percorre la strada nota per essere percorsa ad alta velocità in direzione Giuliano centro. Ad un tratto compare l'uomo che vaga sulla corsia di sorpasso contro le auto che sfrecciano. Lampeggianti accesi e segnalazione sul tetto dell'auto con l'avvertimento di rallentare e i carabinieri scendono dalla gazzella. Pochi secondi e l'uomo visibilmente disorientato viene messo in auto tra il vento, la pioggia e le auto. L'uomo un'ottantenne del posto è stato affidato ai medici del 118 e fortunatamente sta bene. I carabinieri successivamente contesteranno che l'anziano si era allontanato poco prima da una casa albergo per anziani. Grazie a tutti.